Per prima cosa un saluto a tutti i miei amici, followers, traders all'ascolto e che arriveranno. Oggi parliamo di opzioni, ma non ne parliamo così a livello informativo da youtuber o da informatori, parleremo di tre operazioni che abbiamo fatto proprio in queste ore, ieri si tratta della giornata di ieri, poi vi farò vedere un'operazione molto interessante di aggiustamento in opzioni che è accaduta sul nostro portafoglio della proprietary trading dieci giorni fa, insieme in compagnia del mio amico Alessandro che sto crescendo nel mondo delle opzioni, la proprietary trading, annuncio fuori dal coro, c'è la foto oggi su Facebook, su YouTube, su Instagram e sulle stories del Max che firma in giacca e cravata, in cravata no, è da quando non si vedeva il Max in giacca, si è tolto il pantaloncino, l'infradito ha lasciato il giro del mondo per un momento, è rincasato nelle grigie giornate nuvolose e fredde della Svizzera qui a Vacallo e si è recato oggi a Lugano il Max, quindi ha firmato il documento le società, la società Ideas Incubator che svolge servizi di informazione, formazione, supporto ai trader, divenuta proprietary trading, si trasferisce a Midvaldo nel cantone che sta sotto Lucerna. Domani mattina vado a vedere una casa perché non ce ne sono molte, bella, molto bella e vediamo di portarcene a casa una perché il contrattempo in questo momento da superare è trovare una casetta che va bene, bella e visto che ci sono poche proposte da giudicarmi perché la società è già convolata a Midvaldo, è già scritto nel registro delle imprese ma il Max deve convolare a Midvaldo. Ok? Dopo questa notizia di cronaca rosa però è importantissima dato che sono rientrato sostanzialmente per quello saluto tutti voi che state intervenendo. Cosa faremo con questo petrolio? Allora io ci ho fatto un'operazione che vi faccio vedere adesso, oggi farò vedere tre cose in opzioni. La prima riguarda proprio, bravissimo, mi è levato le parole di bocca, il petrolio. Allora l'operazione in cerdino chiusa, i miei amici di codice Max lo sanno, guadagnichiando qualcosa, peraltro insomma maledicendo un po' lo swap che il mio broker mi fa pagare, quindi mai più perché non ne vale la pena, nel senso che basta stare qualche giorno in posizione e gli swap sono salati. Invece vi faccio vedere come anziché pagare lo swap, incassare un mega swap dal petrolio, la parola swap non è corretta ma insomma un anti-swap proprio attraverso le opzioni. Il livello di 61 tondo è quello che sta tenendo le quotazioni in piedi, quindi tre candele rosse in discesa sostenute da altrettante tre verdi. Quindi ieri il mio amico fidato Alessandro del supporto tecnico è oramai uomo infiltrato nel mondo delle opzioni dal Max, sostanzialmente ha messo un'operazione su uno dei conticini della proprietary trading. Proprietary trading che ha superato il mezzo milione di investimenti tra i conti automatici, il selector, carosi e poi ci metti l'ecritto e poi ci metti questo e quell'altro, abbiamo superato il mezzo milione di investimento e continueremo così fino a che risucchieremo anche tutti gli account privati e li porteremo di qua per un trading più sistematico, strutturato, diversificato su vari strumenti e una serie di cose. Cose che vedremo nel corso del 2021-2022 insomma a tempo ce le abbiamo e tra le varie cose che ogni tanto mi chiedete ci sono le opzioni, allora eccomi qua. Ora sul petrolio cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'operazioncina di questo tipo. Allora giusto giusto ieri, quindi una cosa fresca di stampa. Abbiamo creato una operazione che vi faccio vedere adesso sul grafico di rischio rendimento qua del nostro option ethics. Allora se voi vedete abbiamo venduto un'opzione qua, update, un'opzione, questa opzione non è sul crude oil future o sul crude oil ma sull'etf che replica il crude oil, si usa uso uso. La cosa bella è che questa opzione l'abbiamo fatta ieri e scade, lo potete vedere qua nella cella rossa, fra tre giorni ovvero venerdì. Allora è un'operazione in opzioni che ci fa incassare 46 centesimi per contratto, uno potrebbe dire 46 centesimi per 100 opzioni sono 46 dollari, un po' pochini. Dipende. Allora considerate che un contratto su USO costa, dato che quota USO, quanto quota USO? Aiutatemi a capire qua. Quota 44 circa, no? Allora lato in cui abbiamo incassato l'opzione valeva 44, per 100 che è il contratto minimo sono 4400. Quindi se io incasso 46 dollari su 4400 sto incassando, quanto sto incassando? Facciamo i conti insieme, 46 dollari diviso 4400 sto incassando l'1%, va bene? L'1% in 5 giorni vuol dire che per quattro settimane sto incassando un valore del 4,18% al mese, ok? Sto incassando un'opzione, quindi guadagno al passare del tempo, ecco perché l'ho voluta malamente chiamare uno swap positivo. Quindi ho incassato questa opzione di 46 dollari su un controvalore mercato di 4400 senza leva, cioè se io decido di comprarmi 100 quantità di USO, che è appunto l'ETF sul petrolio, devo spendere 4400 dollari. Questi 46 dollari quanto sono su 4400 se fosse l'immobile che costa 4400 dollari? Quanto sarebbe l'affitto di 46 dollari in percentuale del mio inquilino? Beh sarebbe intanto un affitto da Airbnb, short term, quindi un affitto settimanale. 46 dollari su 4400 sono circa l'1% in una settimana. Vi torna? Non si paga chiaramente lo spread della commissione per incassare il premio. Come non si vede, non si sente ragazzi, non scherziamo. Allora, eccolo qua Luca che da un po' non ci faceva le sue richieste di prestito, 4400 dollari, c'è ripresti, fantastico. Ciao Monica, ciao Camillo, un buongiorno a tutti i nostri amici codiciani e criptoniani all'ascolto. Oggi parliamo di option e vediamo un attimino questa operazioncina. Quindi diamo una botta di zoom, potete vedere in questo momento che se il petrolio sta a questo livello di quotazione, noi siamo sopra questa linea azzurra di break even, quindi incassiamo tutto il premio, cioè se il petrolio sta sopra il livello di 40, l'ETF del petrolio sta sopra il livello di 44 dollari, sopra la panca la capra canta. Dov'è il livello di 44 dollari? Vediamolo sul crude oil che conoscete meglio tutti, quindi andiamo a condividere il grafico del trading view sul petrolio, così vedete che il petrolio se sta sopra 61, in realtà è un po' più in alto, se sta sopra circa il 62 noi incassiamo tutto il premio, scade tutto venerdì alla chiusura della borsa americana. Ci siete fino a qua? Allora domanda che faccio io a voi, che ne pensate di questa operazione? Uno, che ormai abbiamo già fatto e che è inattivo, due, è chiaro tutto, non è chiaro tutto perché oggi potremo far vedere delle cose e poi fare un'accelerata, se volete, verso la soluzione di un possibile problema, perché se tutto va bene, cioè la nostra operazione va in fondo e il nostro petrolio sta a sti livelli, scade sopra lo strike, allora noi incassiamo il premio di 46 dollari per operazione, ma che succede? Che succede se andiamo sotto, sotto la panca, la capra, crepa, se andiamo sotto lo strike dai 44, che cosa succede alla nostra operazione? Rimane un'operazione perdente, ma soprattutto di quanto perderebbe? Vediamo un po' se siete bravi. Eh, il gran maestro, dovevamo vederci, Camillo, sì. Il problema è che per vederci, qui c'è il problema, che per entrare in Svizzera dall'Italia, zero problemi, per andare dalla Svizzera all'Italia, problemi. E quindi forse non ci vedremo. Allora, che cosa succede qua? Succede che se io vado sotto il livello di 44, guardate quanto perdo, bam 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 bam, è come se vado long sul petrolio. Facciamo finta che non ho lo stop loss, ho fatto un acquisto sul petrolio e me lo voglio infilare in sacoccia. Per cui se tutto va bene incasso l'1% in una settimana, ma se tutto dovesse andare male io comincio a perdere. E che cosa succede? Perdo illimitatamente, quindi o chiudo l'operazione a un certo punto incassando una perdita o posso perdere fino a un massimo, se il petrolio va a zero e qualche anno fa vi avrei detto il petrolio non può andare a zero, in realtà il petrolio, o meglio il future del petrolio, l'anno scorso è andato a zero, comunque potrei perdere al massimo i 4.400 dollari, cioè se vado proprio a zero, comprimo il petrolio, il barile e tutto. Ora però che cosa potrei fare? Potrei chiudere l'operazione a un certo punto in perdita, oppure che cos'è che potrei fare e che fanno gli istituzionali se l'operazione va male? Cioè se il petrolio va sotto 44 e io sono in perdita, che cosa posso fare? Allora i 46 dollari conviene? Allora i 46 dollari, che in Svizzera non sono neanche, sono una margherita con una birra, però sono l'1% sui 4.400 di rischio. Lasciamo stare che poi il broker ti può dare la leva. Senza leva l'impegno per comprare 100 contratti di USO è 4.400. Io incasso l'1% in una settimana. Quindi che cosa succede però se il petrolio va sotto il livello dei 44 dollari? Che a scadenza o io incasso la mia perdita chiudendo l'opzione, l'ho incassata, la rivendo, oppure che cosa posso fare? Vediamo se ci sono i più esperti delle option. Cosa posso fare se la mia opzione a scadenza sta sotto 44? Ricordo a tutti gli ascoltatori che non ho comprato l'opzione, ho venduto l'opzione allo scoperto. Per cui se a scadenza il mio USO sta sotto 44, che cosa accade se non chiudo la posizione? accade che io sarò in perdita. Però io potrei stare lì e farmi assegnare. Quindi io venerdì sera sono sotto 44, non faccio niente, mi tengo i miei 46 dollari, cioè l'1% di quel controvalore settimana è garantito. Me lo tengo in saccoccia ed è mio. Non devo ridarlo indietro, me lo tengo. Chiaramente mi faccio assegnare. Quindi mi daranno USO a che valore? A 44, che è lo strike. Se io a questo punto ho il petrolio che lunedì l'USO sta a 43, sono sotto di un dollaro. Siete d'accordo? Quindi mi assegnano, mi danno 100 strumenti per contratto di USO, sono sotto di un dollaro. Ma di quel dollaro che sono sotto metà, 46 centesimi, facciamo 50 metà, chi me lo rimborsa? Me lo rimborsa la mia opzione che ho incassato. Quindi è come se io aprendo quest'operazione, incasso un valore che mi fa da mega swap, che mi fa da dividendo, mega dividendo dell'1% in una settimana, che sarebbe il 4% al mese, che sarebbe il 44% l'anno, che è una botta, che di swap, dividendo, tra virgolette, io sto incassando. Sicuramente. Ora è chiaramente se io incasso l'affitto ma il valore dell'immobile scende, io incasso l'affitto però il valore dell'immobile intanto perde. Allora il mio petrolio se perde come se il valore dell'immobile scende. Io cosa faccio? Mi faccio dare il petrolio a 43, a 44, mi tengo la mia opzione, se il petrolio da 43 torna a 44 cosa posso fare? Posso chiudere il petrolio alla pari, l'opzione me la son tenuta, fine della storia. Ci siete? Quindi questo è un piccolissimo aggiustamento, classico, da istituzionali. Il trader piccolo non fa queste cose. Perché? Perché se io incasso un premio e mi faccio assegnare, devo cacciare il grano. Il trader piccolo cosa fa? Incassa premi in leva e se lo assegna non ha i soldi da mettere. Quindi io cosa faccio? Io incasso premi proporzionati, ho il cash sul conto, se mi assegnano mi faccio dare uso, me lo tengo, lo uso e lo restituisco. Certo se il petrolio crolla del 50% è chiaro che io ho una perdita del 50% per ogni contratto da 4.000. Ma è evidente che io accetto di incassare il petrolio se me lo danno, perché ho una visione medio-laterale, leggermente rialzista, che decido di incassare nel caso vada male. Ci siamo? Quindi a fronte del fatto che sono disposto ad andare long del petrolio, che se vado long del petrolio è come se vado long con i CFD, comunque devi mettere il cash, che però di sicuro mi incasso l'1%. Piuttosto che comprare il petrolio, guadagnare se va su o non guadagnare se sta fermo o se scende, io prendo l'1% stasettimana. Decido che se il petrolio va su del 40%, io guadagno solo l'1%. Ma se sta fermo o scende un po', l'1% mio è garantito. Se il petrolio dovesse scendere di più, mi faccio dare il petrolio e mi tengo il petrolio. A quel punto decido. Se riconsegno il petrolio a 0, il mio 1% me lo tengo. Ma che cosa potrei fare ancora? Potrei rimanere long sul petrolio e fare il 4% sul petrolio, più l'1% della put e ho fatto il 5%. Vi piace? Questa è un po' complessa per i trader, certo quando parliamo di opzioni parliamo dello strumento più complesso finanziario al mondo, ok? Non diciamo bugie. Se hai dimagrito vediamo un po' dall'Egitto, meno male, meno male perché sono tornato tondezzante. Allora se al posto di risalire scende, allora se al posto di risalire scende perdi. È la vita del trader, dell'investitore, dell'imprenditore, della partita IVA, di Elon Musk, di Apple, eccetera, eccetera. Allora io se faccio per esempio quelli che fanno l'investing, che si comprano le azioni, che si comprano gli ETF, che si comprano le cripto e fanno anche l'investing e se le tengono in saccoccia, sanno che comprano un asset e quell'asset può cambiare di valore. Il buon Warren Buffett, John Graham o quell'altro Walter Schultz come si chiama, fanno, hanno fatto questo e hanno fatto la storia di questo, del value investing. Quindi io potrei decidere che poi mi prendo uno stop loss, chiuso il petrolio. Però questa cosa ve la faccio vedere su un'altra operazione. Un'operazione che invece è andata male. Poi torniamo a quell'altra di ieri che abbiamo fatto. Però siccome abbiamo parlato di rischio, di rischio che le cose possano andare male, vi faccio vedere un'operazione di qualche tempo fa, non molto tempo fa, che abbiamo messo sempre con Alessandro, su questo conticino piccoletto della proprietary trading. Sono circa 44 mila euro in questo momento. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa operazione qua. Allora guardate, il Nasdaq allora aveva fatto un'accelerazione al ribasso. Quindi la volatilità delle opzioni sale. Quindi in proporzione, se sul petrolio ieri ci hanno dato 46 centesimi per opzione, nel momento in cui la volatilità è più alta, quello stesso strike, quella stessa opzione, ci avrebbe dato più soldi. Ad esempio 55 centesimi. Ora sul Nasdaq era salita un pochino la volatilità, che è quella che potete vedere sotto, perché il Nasdaq aveva fatto due giornate negative, non vi so dire se è un 2 o un 2,5% o meno. Quindi il valore delle opzioni è salito di ciccia e l'incasso dei premi valeva di più. In questo caso abbiamo preso 1,87, ovvero 187 dollari per contratto. Questa operazione mi piace perché comunque scade a tre giorni. Quindi io prendevo 1,87, lo vedete nella cella blu, in tre giorni a scadenza, lo vedete in arancio, rosa, quel coloraccio lì, con un'operazione ribassista sul Nasdaq. La vedete questa qua? Che cosa succede sul Nasdaq? Dobbiamo tenere botta tre giorni, non tanto, per andare a scadenza. Allora dal 4 di maggio che abbiamo l'operazione, la fa Alessandro, tatatatac, oramai è bravissimo, andiamo avanti. Il giorno dopo siamo in attivo leggermente, mancano due giorni a scadenza. Guardate qua, vado avanti col software, questa è un'operazione real che abbiamo fatto, manca un giorno a scadenza e siamo sotto, perdiamo 60 dollari per contratto. E siamo a breakeven, guardate, questa candela verde ci sbatte proprio sulla linea azzurra. Quindi noi qui, se scade così, perdiamo e guadagniamo zero. Mancano 24 ore, 8 ore di mercati aperti. E che cosa succede? Plus one day, che siamo sotto di 233 dollari a scadenza. Siamo zero giorni a scadenza e siamo in perdita. Quindi il Nasdaq scade sopra il nostro strike. Qui stiamo usando il QQQ, che è la replica paro paro dell'ETF sul Nasdaq. Per cui noi siamo in perdita di 233 dollari. Che cosa facciamo? Guardate come cambia il grafico di rischio di rischio rendimento. Ci hanno assegnato, venerdì sera, lunedì, ci consegnano 100 ETF short sul Nasdaq. E noi siamo in perdita di 233 dollari. Che potevamo guadagnarne 187, ci fa perdere di più di quello che potevamo guadagnare. Quindi ditemi un po' se fino a qua ci siete. Grazie del bentornato. Ciao Antonello. Complimenti per come spiego. Ho visto nei giorni scorsi due video su YouTube di 11 anni fa sulle greche. Altro nel mondo delle opzioni. Spieghi breghissimo. Grazie. Mirella invece mi dice che quando spiego non si capisce niente. Perché? Perché quando io spiego al mio team vado in modalità creativa. Se avrete mai il piacere di vedermi in modalità creativa, io vado via così. E allora non si capisce più. Ma se spiego a voi cerco di essere chiaro. Allora, questo è il tema. Ci siamo? Quanto cash ci vuole sul conto se ti assegnano? Allora, chiaramente il broker ti prende la leva. Per esempio i 4.000 dollari per contratto di prima. IB non mi chiede 4.000 dollari. Interactive Broker. Il broker che io ho, che adesso vi faccio vedere, il broker che io ho non mi chiede 4.000 dollari, ma mi chiede, vediamo se riusciamo a condividere un po' il broker IB, mi chiede che cosa? Mi chiede un margine che è meno, molto meno. Io però non faccio i conti con il margine che mi chiede, perché mi chiederà presumibilmente un quarto, quindi 1.000 dollari. Allora, se fai il conto che prendi 46 dollari, anziché su 4.000 che è l'1% su un quarto, sto facendo il 4% a settimana del mio capitale. 4, 8, 12, 16, che è il 16% al mese, non è più il 4%, ok? Quindi del margine in leva che mi chiede il broker, questo è il mio rendimento. Io però faccio conti sui soldi veri, senza margine, anche se il broker mi chiede un margine. E allora vi dico questo, ci siamo fin qua? Allora, cosa succede? Che sul Nasdaq, adesso ci torniamo, noi ci siamo presi la sola, perché ci hanno assegnati? Allora io ho detto ad Alessandro, mi fa Alessandro, che facciamo sul Nasdaq? Io ho detto, lasciali. Quindi il venerdì, il comando lasciali, c'è il pulsante su IB, clicchi buy, clicchi selo, oppure c'è chi lascia lì. Quindi ti arriva la notifica di IB, in italiano e anche in tedesco, perché noi abbiamo la società svizzera, per cui ci arrivano anche le notifiche in tedesco. Carissimo Pippen, carissimo Pippona, tu avrei opzione su conti IB, scadere, adesso, chiudere posizione, mannaggia, altrimenti fare casino, creare problemi in società, in tract broker, mandare a te email, casino, chiudere posizioni tutte sul conto a casa. In realtà noi, traducendo con Google Translator, ricevendo anche la mail in italiano, abbiamo lasciato tutto perché? Perché rispetto a IB che se ne fregava di avvisarti di ciò agli anni in cui ho iniziato io, e poi veniva fuori un casino, ti avvisa, guarda che ha in scadenza questa operazione, te lo dice almeno due volte la settimana della scadenza, e noi abbiamo lasciato. Quindi IB poi ti manda un messaggio, essere scaduto, ya, avere assegnato dare te 100 opzioni Nasdaq, ya, te le devi tenere. E quindi se tu hai il margine, lei te le consegni e basta. Quindi non eravamo short. A questo punto, siccome la mia view era short, siamo rimasti short sul Nasdaq. Attenzione, noi siamo in perdita di 233, ma abbiamo incassato i 187, sono nostri. Quei 187 sono nostri, quelli lì li hai presi e non è che li hai dati indietro. Quindi 187 dollari per contratto sono nostri. Cosa succede? Che il Nasdaq giustamente riprende la via della saggenza e se ne viene giù. A questo punto noi guadagniamo 600 dollari. Perché? Perché a questo punto siamo short su 100 ETF del Nasdaq. E il Nasdaq se ne viene giù. Fa un bel candelone. E di conseguenza noi guadagniamo questi soldini qua. Noi chiudiamo a 656 più l'incasso dell'opzione, quindi facciamo circa 700, 800, 900 dollari circa. L'operazione viene chiusa, il margine è ripristinato. Noi non abbiamo più rischio sul mercato. Siamo partiti per incassare 187 dollari, siamo andati sotto di 200 eurotti, abbiamo chiuso più 900. Vi torna? Questo passando da un aggiustamento, che è un aggiustamento non tipico dei trader piccoli, perché i trader piccoli per guadagnare tanto usano la leva e fanno strategie più in leva. Quindi per esempio anziché incassare un'opzione da 187, ne avrebbero incassate tanti al margine, magari ne incassavano 10, ti davano 1870 dollari, va che festa. L'unica cosa è che se poi ti consegnano 100 contratti Nasdaq per 10, sono un po' di soldini da mettere. Magari il trader a quel punto il margine non ce l'ha più, quindi cosa deve fare? Deve chiudere il contratto in perdita perché non hai soldi per regolare per cassa l'assegnazione. Io invece, bello tranquillo, ho messo una quantità in linea con l'account, che è da 44 mila circa, a questo punto mi sono incassato con Alessandro, perché noi stiamo facendo palestra per il futuro della proprietà di trading, in opzioni, eccetera eccetera, il 2021, incassato il 187, ci hanno assegnato, risposto col cash, sceso il Nasdaq, chiuso in attivo. Ci siamo fino a qua? Questo è un po' il giro del fumo. Ok, allora, option, calculator, rankers, strategies, che adesso c'è il senso delle married put. Allora, non mi piacciono perché io sto praticamente creando una call sintetica. La put che compro perde se scende la vola, perde se passa il tempo. Allora, va bene, mi assicura il titolo piuttosto che fare investing e non avere l'assicurazione, ma alla lunga, se il mercato non è molto volatile, per pagare almeno il premio dell'assicurazione, perché l'assicurazione in put ne costa poco, è un casino. Allora preferisco dirti, se vuoi fare quello, ti compri l'azione, ti compri la put a protezione e incassi una call. La call che incassi ti fa guadagnare dal tempo, ti strapaga il premio della put e tu ti trovi in un'operazione che guadagna dal tempo. Quindi fai quello che ti ho fatto vedere io, perché incassi, ma hai un rischio limitato sotto perché hai una put protetta. L'azione te la puoi tenere quando vuoi, se dà dei dividendi gli incassi, ci incassi sopra ogni mese una call e ci rinnovi il premio della put. Adesso noi per semplicità lo chiameremo collar e diremo che la tua put maritata, married put, ha bisogno di un testimone. Quindi fai la married put e incassi una call. A quel punto il grafico di rischio rendimento somiglia a un credit spread, guadagni dal tempo, eccetera, eccetera. Siccome chi ci segue probabilmente, dico solo probabilmente non ha capito, vi faccio vedere come sarebbe una married put fatta sul petrolio che abbiamo fatto noi. Vi piace l'idea? Così facciamo una roba fighissima. Allora, option chain, vado però alla data di ieri, 24 di maggio, vado sempre, ve la faccio vedere in creazione, così potete rivederla al moviolone in registrazione casomai, non doveste riuscire a seguirla, la registrazione della diretta rimane, vi ve la vedete. Sono nella tabella delle opzioni, di questo software maldestro ma il migliore in circolazione al momento, levo la chat, altrimenti non si vede. Vedete che sono sulla tabella delle opzioni, scadenta a 4 giorni. Allora io le opzioni, se le voglio fare così preferisco farle al brucio. Sul Nasdaq ci sono anche a 2 giorni, a 3 giorni, così. Quindi cerco di prendere la scadenza più vicina. Una volta non ero così, perché facevo un trading in opzioni diverso, però in questo caso preferisco 4 giorni. Quindi cosa faccio? Faccio una Married Put, quindi compro una Put di protezione sul petrolio, condivido di nuovo il monitor, share screen, perché mi ha aperto un'altra finestra, quindi devo cambiare l'Ambarandan. Allora, compro una Put, ci caccio dentro l'acquisto del petrolio, perché la Married Put vuol dire che io compro l'azione, 100 pezzi, di coloro la riga, in questo caso compro il petrolio in verde, 100 pezzi. Perché 100 pezzi? Perché ogni contratto standard di nozione americana ha 100 pezzi di sottostante. Quindi io cosa faccio? Facendo una Married Put, sto trasformando questa roba qua, cioè se il petrolio sale in alto a destra, guadagno di brutto, ma se sta fermo, brucio tutto. Allora la mia protezione alla fine, sì, mi protegge, però non dalla scottatura solare. Quindi io cosa posso fare? Faccio una roba diversa, più evoluta, ma sicuramente migliore per quanto riguarda il mio punto di vista. A questo punto cosa faccio? Ti faccio la tua Married Put come piace a te, ma ci vendo una call dentro, scusate la complessità, ma sono lieto dell'intervento e allora lo soddisfiamo, perché se volete fare una roba figa io vi vengo dietro. Allora guardate qua, rispetto a prima, se sta fermo il petrolio tu guadagni come me. Se sale il petrolio guadagni. Se il petrolio va giù, perdi, solo che rispetto a me che avevo un rischio che mano a mano progressivamente aumentava, tu hai un rischio di 60 e qualcosa dollari, per guadagnare circa un po' meno di 40 dollari. Quindi tu hai 40 dollari di profitto su 60 di rischio, che è tantissimo. Quindi tu, rispetto a quello che ho fatto io, hai fatto 40 diviso, sei al 66% di redditività sul rischio, non più all'1% o in level 4, tu sei al 66% di redditività sul rischio, il rischio e reward inferiore 1 a 1. Se le cose vanno male, siccome hai l'azione, comunque ti puoi far assegnare come ho fatto io, oppure vuoi aggiustare il trade, rollare le posizioni. Ragazzi è diventato un corso avanzato da 1500 euro due giorni in aula a Milano. Allora cosa succede? Che queste opzioni scadono, ma tu le puoi spostare la settimana dopo, si chiama rollare, spostare, da non intendere per i più avvantaggiati nel roll di altre cose. Per cui tu sposti tutta la settimana prossima e puoi aggiustare il trade. Se vuoi fare le merit put, convertiti a questa nuova religione. Portati, come si dice, il testimone. Quindi trasforma le merit put in collar tutta la vita meglio. Teta positivo, vega positivo, puoi aggiustare, puoi rollare, puoi rollare il collar per anni. Incassare il dividendo, fare quello che vuoi, mentre se fai una merit put, a scadenza, se non hai volatilità, perdi e fine. Ti sei protetto dal crollo, se però continui a pagare una grande assicurazione che ti fa pagare più del costo della macchina, comincia a diventare non interessante, perché quella polizza, come se tu hai una polizza da 70.000 euro di macchina, la polizza costa 7.000 al mese, insomma dopo un anno ti sei comprato la macchina, non ti assicurare, tra virgolette. Quindi quella merit put ti fa pagare un premio assicurativo gigantesco. Se incassi una colla, la colla ti fa ripagare tutto il premio, ti dà dei soldi e ti fa guadagnare se anche lo strumento sta fermo. Per cui ti direi di assolutamente. Se con la colla non si riesce a finanziare la put è impossibile. Se tu compri una put strike sotto e vendi una call strike sopra, matematicamente impossibile che tu non tieni il grafico mio. Il segreto è che tu devi fare questa roba qua, adesso si va di lavagnetta ragazzi, mi fate infoiare per le opzioni. Allora ragazzi attenzione, condividiamo in questo momento al novantesimo, al novantesimo share screen, share screen non era prevista questa cosa, ma la cosa fondamentale è che il bello della diretta è che voi intervenite e cambiate la traiettoria di quello che io voglio fare e è questo che mi esalta, altrimenti io non mi esalto, se non ci sono cose, diciamo, ci deve essere roba che fa girare la nostra cavessa. Allora qua c'è una riga che non so perché non mi fa tirare, ecco qua, se io prendo un'azione che sta così, ok? Un'azione che sta così, sta salendo, ok? E quota questo, io sotto compro una put, buy put e il corso diventa di tre giornate ragazzi, mastermind. A questo punto sopra, vendo una call, vi disegno il titolo un pochino più in alto, ok? Il titolo sta qua, a questo livello, ti capi? Questo è il prezzo del titolo, buy put qua, sell call qua, sopra, ci siamo? Più, chiaramente, buy stock. Quindi voi avete 100 azioni per contratto di opzioni, vendete una call, comprate la put, provare per credere, impossibile che non vi venga il grafico di rischio rendimento che vi ho fatto vedere prima, perché è matematica, c'è scienza esatta. Quel grafico di rischio, non devi guardare quanto costa la call, quanto costa la put, fregatene, la put vale di più, vale di meno, fregatene, il segreto è vendi la call, sotto compri la put e compri le 200 stock, fine. Il grafico di rischio rendimento può avere una redditività più o meno interessante, un payoff meno interessante, ma è matematico che tu avrai una zona destra di profitto al passare del tempo. That's it, dallo zio max puoi stare tranquillo. Sei in ATM e non puoi fare scadere la tua opzione senza essere assegnato. Poi, come gestisci l'assegnazione e tutto, è un altro discorso. Chissene, io quello che volevo farti vedere è che comunque puoi chiudere tutto prima della scadenza e non assegna nessuno. In ogni caso, se vuoi andare in assegnazione, come faccio io, lo puoi fare gestendo l'operazione in assegnazione. Il vantaggio è che il rischio è limitato, la redditività aumenta perché il tuo massimo rischio si riduce, il broker ti chiede meno margini, ma se ti chiedesse anche gli stessi margini, perché poi il broker fa i conti in modo particolare, la verità è che indipendentemente dal margine che ti chiede, il tuo rischio è dasticamente ridotto. Per cui, la sell put ha dei rischi che ti danno un piccolo vantaggio in più, migliora il back even, ma non sono assolutamente premianti rispetto al rischio che è ridotto del collar. Per cui, mi piace la domanda, eccetera. Allora, se vuoi fare un calendar con le opzioni settimanali, poi le cose cambiano un po'. Ciao Gianluca, per uno che mette all'inizio con le opzioni, eh, allora, per uno che mette all'inizio con le opzioni, qual è la strategia che ti consiglio? Eh, dipendi un attimino. Infatti, Mary Ed Wood, rollare al pagliato canale. Il mio dubbio è sempre stato il costo caro della put, sì, ma non è il problema del caro in assoluto, è che la tua put te la porti in giro e ti fa perdere al passare del tempo. Quindi, se il titolo non sale abbastanza da superare il costo della put, tu da lì in poi sei solo la pari. È come se paghi un mega swap. È come se tu paghi una super commissione, anziché pagare un dollaro per comprare, paghi 50 dollari, 100 dollari. Quindi questa roba della put non ci piace per questo motivo. Il collar invece è intelligente, perché ti protegge, ma ti dà il vantaggio. Quindi, lascia stare i TM o TM a TM, guarda gli strike, quello che compri deve sempre stare sotto quello che vendi. Tu, se ti muovi, fai così. Quello che vendi sempre sopra quello che compri. Non guardare ATM o TM, perché potrebbero essere tutte ATM, leggermente, tutte i TM o TM, fregatene. L'importante è che se vuoi quel payoff, quella che vendi sta sopra quella che compri. Le opzioni, se tu le pensi graficamente, allora impari a disegnarle graficamente, ecco perché la lavagnetta, a quel punto te le immagini facilmente. Se cominci a pensare lo strike, l'OTM, l'indemani, l'assegnazione, il nome della strategia, ti perdi. Invece tu immagina gli strike nello spazio e vendi quello sopra, compri quello sotto. Finito la spiegazione. Ok? Poi, Max numero uno. Grazie a te carissimo. Abbiamo scoperto il punto debole di Max per rubare informazioni. Sì, le opzioni. E mi piace la creatività. Pensavo che fosse ATM e non ATM. Allora, la colla, sì, è leggermente out of the money, ma non ti interessa. Non ti interessa. L'importante è che le immagini graficamente. Poi il discorso dell'OTM per l'assegnazione è un'altra cosa. Io vendo opzioni in azioni che sono disposto ad avere in caso di assegnazione. Qual era la tua strategia quando ti occupavi di prendermi di opzioni? Allora, sì, se tu vendi opzioni putte nel caso in cui ti assegnano, ti tieni lo strumento sottostante come faccio io, è perché in qualche modo tu sei indeciso tra comprare il sottostante e incassare un premio certo. Se tu incassi il premio certo, io mi regolo cercando di incassare il 5% al mese. Quindi un po' più dell'1% a settimana o un unico premio a 28 giorni, 30 dal 5%. Il 5% al mese se incassi un'opzione put ATM è quasi la norma su qualunque strumento, tra il 4 e il 5 e mezzo è la norma. Se poi prendi un titolo farmaceutico, magari lavora più alta, o un titolo molto movimentato lavora più alta, c'è più rischio dell'opzione di via. Però tra il 4 e il 5 e mezzo al mese settimanale o in un incassi commessile è quasi certo che in opzioni in premio te lo danno. Per chi inizia si possono fare delle cose più diverse e disparate. In questo momento che le volatilità sono stabili, si potrebbero fare dei calendar spread. Il problema del calendar spread è che è abbastanza semplice, può dare dei buoni guadagni, costa pochissimo, quindi anche chi ha sul conto 3.000 euro li fa quanti ne vuole, però è una strategia finta di tempo vera in volatilità. Tu anziché incassare dal tempo stai facendo un super hamburger di volatilità. Quindi non tutti lo sanno, il calendar spread in realtà è una strategia di volatilità più che di tempo. Quindi il problema è che si sconquassa sulla base dell'andamento della volatilità. E siccome subisce tantissimo lo spread delle due opzioni che compri e che vendi, è molto instabile per la volatilità e per questo spread. Però per iniziare, se uno non ci mette il giusto delle posizioni, può essere interessante. Se uno ha qualche soldino in più, anche fare i collar secondo me può essere una buona cosa. Al limite si sceglie tre strumenti. Oggi ci scriveva uno studente che ci diceva, ma io faccio tante operazioni perché io voglio farne tante. alcuni hanno la cosa di fare tante operazioni. Ti fai tre collar sul capitale da diecimila, sai che alla fine non ti servono i soldi perché l'azione è protetta e tu vai avanti a rollare. È una strategia che si aggiusta abbastanza bene, te la riporti a casa, il titolo magari non andava come volevi tu, ci metti tre, quattro, sei settimane, te la riporti a casa zero o leggermente inattivo, cambia la tua view sul titolo e a quel punto al limite te ne vai su un altro strumento. È un sistema molto interessante per il recovery della posizione, cioè io ho un'idea. Io quando ho iniziato in opzioni facevo non direzionale basta, cioè non avevo un'idea. Ma se tu hai un'idea, per esempio, che ne so, il petrolio rialzista adesso. Tu ti fai un collar, se il mercato va in laterale, questo mese magari perdi, replichi il collar e il mese prossimo la riporti inattivo. Sei ancora di questa opinione che il petrolio rialzista o moderatamente laterale, lo rinnovi. Va un po' giù più di quello che volevi sotto la media mobile, aiuto, ha fatto meno due, magari adesso parte la discesa, aggiusti il collar, lo riporti a zero, molli il petrolio e vai a fare un collar su un altro strumento, su cui ha una view, su cui ci credi di più. Secondo me può essere un buon inizio, anche perché per chi viene dalle azioni e dall'investing è un bel modo di diversificare o sostituire addirittura l'investing. Per chi in opzioni non ne sa nulla, impara una strategia in opzioni che lo aiuta anche a cacciare dentro l'azione, il ETF, che domani alla fine può essere buono per fare portafoglio e mi sembra una cosa utile. Per cui il calendar spread mi piace, ho iniziato con quelli a manetta, non direzionale, mi piace sicuramente il collar. Il credit spread un po' di meno perché scadono le opzioni e se va male per aggiustarla poi dopo devi, insomma, è un po' diverso. Per cui io vi direi che potete dare un occhio a queste due cose. Per chi ha un approccio direzionale, per chi invece viene da un approccio non direzionale, cioè fa le opzioni perché non vuole esprimere un'opinione sull'andamento futuro dello strumento come quando ho iniziato io e per anni ho fatto non direzionale in tutte le salse, non facevo le settimanali, facevo a partire dai 30 giorni in su, io facevo anche strategie con scadenza 60, 90, 180 giorni. Allora si può cominciare a guardare anche le butterfly. Perché le butterfly? hanno molto spread, molte commissioni per cui devi scegliere gli strumenti giusti, però tenete presente che il mercato tendenzialmente ha la volatilità in ribasso. La strategia che vive, mangia, si nutre come le mucche al pascolo di volatilità in assoluto migliore è la butterfly. Nelle sue varianti, butterfly, modify, broken butterfly, bim bum bum, butterfly. Rispetto a vendere le opzioni secche che hanno rischio limitato, la butterfly ha rischio limitato, chiede le immagini limitate, quindi se uno ha un quanticino di qualche miniera di euro, fa una butterfly, una modify, può dare leggermente direzione, ma la cosa fondamentale è che incassa un sacco di volatilità. Quindi è il miglior bovino in circolazione, dato che oggi usiamo rollare, meri ed è tutto, il miglior bovino in circolazione è che si nutre di volatilità sul mercato delle option a rischio limitato, che potete modificare leggermente rialzista, leggermente ribassista o del tutto non direzionale. Per cui queste tre sono le strategie che io vi raccomando se iniziate e poi in realtà potete andarci avanti tutta la vita, fra l'altro. Ok? Allora bisogna farli guardando una volatilità, il problema è come aggiustare il vertical calendar spread. Allora, il vertical spread ha le opzioni che scadono breve, non è che c'è da aggiustare. Il calendar spread è interessante, si può aggiustare, mi piace per quello, si può aggiustare abbastanza facilmente, che è l'altro motivo per cui a me all'inizio piacevano il calendar spread. A me incursisce fondamentalmente una cosa, Max, ed ora te la chiedo. Come fai a non perderti in tutte queste strategie? Ovvero, com'è che sei realmente organizzato per tradare? Grazie, vorrei dare una spiegazione. Allora, la verità è che io in opzioni ci ho fatto tipo 12 anni consecutivi di studio, trading, test, strategie, creatività, cioè io ci ho passato veramente le ore. Quando sono passato da dipendente Vodafone a trader diciamo a tempo pieno, io ho fatto delle settimane, dei mesi di picco, 8 ore al giorno a fare solo quello, anche perché io ho imparato da solo, per cui mi mettevo davanti a questo software, facevo backtest fino a rovinarmi i pastrelli, perché ho imparato da solo, non sapevo l'inglese, non sono andato in America a formarmi, fino a che poi per soddisfazione sono andato a vedere cosa dicevano, però poi ho imparato l'inglese, insomma lo parlo come lo parlo, ma lo so, e tante cose, però io sono di quelli che se è fatto il mento sul marciapiede, fra l'altro anche a militare, ho fatto le flessioni, mi sono fatto i punti qua sotto, quindi ho imparato a meno a dito. Chiaramente adesso il mio obiettivo è, se fai trading non è che fai 100.000 cose, ne impari alcune e decidi di fare lì, se è diventato bravo diversifichi, imparato a fare il forex, fai le crypto, imparato a fare le opzioni, fai le azioni e fai un pochettino, non è che fai 100.000 operazioni. Poi come gestisci le tue cose? Non fai 100.000 cose, chiaramente la mia necessità è diversa perché io voglio strutturare un'azienda che abbia degli specialisti, che facciano trading in modo diversi, su strumenti diversi, quindi il mio obiettivo finale è rimanere a fare il desk, cioè di tutte le strategie dei traders che lavorano e fanno, dirsano e sbrigano, io devo definire l'allocazione, perché non è, abbiamo 5 milioni tra dateni, l'allocazione, l'aumento o diminuzione di allocazione, il rischio totale dei portafogli. I portafogli speculativi e non speculativi, perché ci saranno portafogli che fanno acquisto di asset, per esempio avremo una collaborazione che abbiamo attivato da più di 6 mesi con il big money che fa l'analista finanziario per una banca d'affari che comprerà asset, quindi azioni eccetera. Lo stesso lo faremo sulle crypto, poi ci saranno i sistemi speculativi, quindi il trading speculativo sulle crypto, il trading speculativo sul forex, quindi l'obiettivo è far andare avanti tutto avendo una plancia di controllo del rischio. Non è che faccio tutto io, la cosa difficile è demandare tutto questo in un sistema aziendale scalabile e quello è il mio prossimo obiettivo sogno, altrimenti se tu decidi di fare le opzioni ti fai 5 strategie. Io quando facevo solo le opzioni ne facevo tante, arrivavo anche a una ventina, però era un po' fuori di testa perché alla fine era un po' troppo robo, però stavo tutto giorno lì, però 20 erano tanti, una volta che hai 5-7 strategie in opzioni, che devi fare? Chiaramente se tu vuoi fare il forex e apri una metatrader, l'opzione ti fa il tuo IB, non è una grossa problematica, ci siamo. Diverso se tu vuoi dire voglio bilanciare il rischio del forex con le azioni, diventa un po' un bordello, però tu ti fai le tue 3-5 strategie in opzioni, anche 3 ben fatte, ben curate, sul tuo conto delle opzioni, ti fai il tuo forex con le tue cripto, le tue azioni, se vuoi fare le azioni insieme alle opzioni IB te lo fa fare e quindi alla fine ti organizzi per ben benino. Non 100.000 cose che poi perdi di vista il motivo per cui fai questa operazione, quella eccetera eccetera. Non operazioni che devi stare tutto il giorno a guardare perché il bello delle opzioni è che le puoi mettere anche a lungo periodo, quindi per esempio io facevo operazioni ai 30 giorni, 60, 90 e 120, allora le settimanali o le ultra veloci a scadenza giornaliera non c'erano e per le strategie che facevo io erano troppo veloci quindi non le guardavo proprio, io sotto i 20-21 giorni non facevo più le operazioni, dai 21 in su. Ok? Le butterfly dove si vendono si comprano? Le butterfly le realizzi tu creando la strategia pezzo pezzo o dicendo al tuo broker di farle. Quindi quando hai un broker che fa le opzioni con le strategie complesse, per esempio Interactive Broker puoi fare le butterfly sulle azioni, sugli etf, sulla mais, sulla coca cola, sul petrolio, su il gold. Il bello delle opzioni è che se tu scegli una strategia non direzionale o leggermente direzionale come la butterfly, scegli 3-4 titoli o strumenti che fanno per te e ogni mese lavori lì. Cioè io per anni ho fatto trading in opzioni su 5 strumenti, tutti i mesi facevo quelli lì, boom, 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 sempre quelli. Quindi la mia strategia scadenza 21, 30, 60, 90 giorni sull'S&P. Io l'S&P l'ho tradato per anni, solamente l'S&P o quasi era il grosso delle mie posizioni, calendar spread e o butterfly sull'S&P, l'ETF in realtà e quindi tutti i mesi l'S&P, tutti i mesi l'S&P. Poi c'erano delle azioni, per esempio mi ricordo Johnson & Johnson perché non era molto movimentata, chiaramente il giorno degli earnings io ero fuori prima, c'era la Microsoft. Quando facevo solo non direzionale c'erano degli strumenti che si muovevano in laterale, che avevano una buona volatilità per avere dei buoni premi in opzioni rapportati al rischio che mi davano. Poi ho preso qualche sola, mi ricordo un doppio calendar spread grande così che ho detto ma non uscirà mai da lì. Amazon al earnings, boom, è uscito da lì. Mi ricordo delle cose che ho fatto, un'assegnazione su Caterpillar che mi hanno mandato a casa, il libro degli azionisti per partecipare all'assemblea perché mi sono trovato le azioni in sacoccia. Ho fatto un po' di cose che pensavo non succedesse mai, quell'evento là invece è successo proprio quando ero lì io. Però di base quando poi ho consolidato tutto, le strategie erano quelle due o tre e gli strumenti erano quei 5 o 7, in linea di massimo. Ok? Esempio di butterfly real time sull'S&P, ragazzi! Ragazzi! Allora sull'S&P potete fare due cose, o prendete l'S&P Y, o prendete l'S&P X, purtroppo vi devo dare la brutta notizia. I titoli costosi sono migliori perché avete i migliori strike e avete anche un miglior pricing, minore spread e alle volte una migliore anche volatilità. Quindi la stessa strategia costruita su quegli strumenti ha una migliore riuscita, una migliore probabilità di successo, perché i titoli che hanno, che sono costosi, si dice, quindi che hanno una quotazione alta, danno la possibilità di organizzare molto spesso meglio le cose. Perché esempio, se fai l'S&P Y, che è l'ETF, o l'S&P X, l'indice, vedrai che a parità di lavoro della butterfly sull'S&P X, la stragrande maggioranza delle volte ottieni strutture molto più belle, molto più interessanti, molto più efficienti da fare. Mi prendo il compito a casa di tornare a parlare di opzioni prossimamente, di parlare delle butterfly sull'S&P. Oggi ci siamo fatti già un bel 54 minuti, fatemi sapere un po' come è andata, potete vedere, rivedere l'ambaradan, fermare e tornare indietro e questo vi può essere molto utile. Tra le mie cose del futuro prossimo, tornerò a parlare di opzioni, allora sulla base della richiesta di Marco, parliamo di butterfly, why not? E magari parliamo di butterfly sull'S&P e l'S&P X, così vedete due strutture molto interessanti, molto molto interessanti. Va bene? Ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me, domani vado a vedere una casa Nidvaldo, che ho scoperto che è il cantone più piovoso della Svizzera, ma perché no? E quindi vado a vedere questa casa, una secchiata d'acqua appena arriviamo in faccia, però per pagare un terzo delle tasse, why not? Mi prenderò sta secchiata in faccia. Quindi andiamo a vedere se ci danno quella casa o un'altra, perché appena avremo la conferma che sigliamo l'accordo per la casa, potremo pianificare i prossimi step, perché Max è rientrato appeso i capelli del viaggio del giro del mondo alle sue spalle, come potete vedere, ci sono anche le guide della Lonely Planet per fare questa operazione. Quindi fino a che non risolveremo questo punto fermo di avere di nuovo una casa dove spostarci da qui a là, è chiaro che non si ripianifica nulla. Non appena avremo questo centro nevralgico fissato, allora da lì ripartono le pedine sulla scacchiera e ripianifichiamo il prossimo. In questo momento sono in Ticino, sì nel canton Ticino, siamo a Chiasso con gli uffici, tra l'altro sopra Aave, che è una cripto che vale miliardi, e sopra l'ufficio di Paolo che ha creato il nostro token e fisicamente la casa sta a vacallo. Io sono in affitto, non ho comprato una volta la casa nella mia vita, presumibilmente mai più. Quindi ci vedremo domani presumibilmente, perché la mattina un appuntamento, vado a vedere questa casa. Per andare a Nitvaldo ci voglio una due ore e mezza circa dal Ticino da Chiasso e poi torno in teoria in orario per la diretta. Un interessante topic domani in mente, però ve lo comunico sempre una volta che so che le cose sono fatte. Presumibilmente se la faccio, la faccio ancora la sera, così ho il tempo di andare a Nitvaldo, tornare, ripigliarmi, perché poi devi andare non troppo più veloce di 100 all'ora, non troppo più piano di 90 all'ora, ti racconto questa. Allora io sono tornato da Zurigo, ho preso l'aeroporto, sono arrivato, ho fatto tutto, ho preso la macchina a noleggio e, perché non ho più una, perché l'ho venduta da quando abbiamo fatto il giro del mondo, senza essere qua, è una cosa incredibile. Allora ho lasciato la macchina all'aeroporto, ve la racconto, ho troppo ridere. Ho lasciato la macchina all'aeroporto, l'Audio A5, mi piaceva tantissimo, coupé bianca, vetri scuri, impianto lì di quello stereo lì incredibile, luci così al neon che ti guardavano, no? E Olsen l'impianto, insomma mi piaceva tantissimo. Insomma però me l'ero goduta, era due anni che ce l'avevo uno e mezzo, il primo ad averlo avuto in Svizzera. Esco dal concessionario un chicco di neve sul tergicristallo, partono da solo i tergicristalli, tolgono la neve, fine, si accendono gli occhioni e io vado. Guidavo anche da sola, era una di quelle prime che guidava, teneva la corsia, eccetera. Insomma alla fine partiamo per il giro del mondo, senza sapere che saremmo stati via, noi pensavamo al massimo sei mesi, tornare. Parcheggio la macchina all'aeroporto. Parcheggio la macchina all'aeroporto, io ero abituato che andavo ai parcheggi dell'aeroporto, quelli un po' fuori, perché chiaramente lasciavo la macchina a mesi, e gli dicevo, oh se per caso non torno io ti pago un mese e due, se non torno, quando torno ti pago la differenza. Loro contentissimi di avere una macchina lì per mesi. Allora vado, lascio la macchina, tolgo tutto dalla macchina, le chiavi, faccio attenzione, pago la fattura ricevuta di due mesi. E gli dico al tipo, mi raccomando, se non vado, c'è il mio numero, ti chiamo e se hai bisogno ti faccio il bonifico, quando torno saldo, oh, passa un mese, ne passano due. Sarebbero passati tipo 16 mesi e la macchina oggi l'avrei ritrovata sui cerchi, probabilmente. Fatto sta che ironia della sorte, incredibile è stato questo giro del mondo, cosa abbiamo fatto? Simone che è un mio amico che saluto, che è l'amico con cui sono arrivato in Svizzera all'inizio e con cui abbiamo condiviso anche cose interessanti di trading, fra l'altro fa trading molto bravo, è diventato e fa delle cose da matti, magari un giorno me lo porto in diretta, è stato così gentile da dire, ma Max, ma tranquillo, te la vado io a prendere in aeroporto. Oh, è andato a prendere in aeroporto, l'ha portata in Svizzera, ha fatto rifare con le assicurazioni, tutto perché in Svizzera qua siamo assicurati anche in casa contro la caduta del bicchiere che si rompe, è una roba incredibile, quindi nuova di pacca, il collega la voleva, gliela ha venduta. Io praticamente stavo, non mi ricordo in che paese, e senza esserci al telefono mi ha chiamato, c'era la neve, il suo notaio, abbiamo fatto l'atto online, c'era la neve, non mi ricordo che periodo era, non mi ricordo se c'era già il coronavirus o no, e ho venuto la macchina. Quindi sono arrivato a Zurigo e la macchina chiaramente l'ho affittata. Quindi cosa ho fatto? Vado giù, fuori da Zurigo, e che cosa volevo dire? Adesso non mi ricordo più, ho preso la macchina, affitto, sono tornato a casa. Allora per tornare a casa ho passato quattro autovelox, una multa di sicuro perché ha fatto flash, e questi autovelox a un certo punto te li trovi lì. Insomma, un mio amico, diciamo per ora il peccato e non il peccatore, che cosa mi racconta? Che lui addirittura in Svizzera, andando piano con il navigatore lì della velocità per non prendere le multe per eccesso, paletta della polizia cantonale, non mi ricordo di che cantone in Svizzera, perché più vai su e più sono severi, lo ferma e gli dice come mai va 80 e il limite 100? Eh, come mai 80? Per non sperare il limite. Ma lei va troppo piano. Lenin tralcia la circolazione, gli ha dato la multa per eccesso di ribasso, per eccesso di lentezza, perché non c'era nessuno, perché potete immaginarvi Svizzera, però lui ha preso la multa perché andava troppo piano. Ve la volevo raccontare, perché ogni tanto vi racconto le disavventure del giro del mondo, queste sono le disavventure della Svizzera a rientro del giro del mondo. Domani ci facciamo sta vasca che sono 150-130 km, che per farla ci vogliono quasi tre ore, perché devi andare alla velocità di Topo Gigio e vediamo questa casa. Torniamo, quindi probabilmente si va in diretta domani alle 19, ve la volevo raccontare, così ogni tanto vi racconto un po' anche di queste robe qua, perché alla fine vedete che ci capitano anche a noi. Sì, devi andare dopo il San Gottardo, un bel pezzo, per andare su a Nidvaldo, è praticamente all'altezza di Lucerna, circa sotto c'è il lago dei quattro cantoni. A destra c'è Zugo, che è più famoso, perché Zugo è uno dei tre posti a tassazione più bassa in Svizzera, ma mi pare che non è più basso di Nidvaldo e di un altro che lì vicino. E poi alla fine, insomma, Nidvaldo non conosce nessuno, è lì tranquillo, e quindi siamo andati lì. Quindi questo. Ragazzi, ci vediamo domani, se tutto va bene, se non succede niente di strano. È venuta anche la polizia a casa a verificare che ero nei dieci giorni di, come si dice, di quella roba là che devi fare. Adesso non è stato rilasciato il 24 di novembre, per cui posso scorazzare. No, 24 di maggio. 24 di maggio mi rilasciano, no? C'era Mirella qua che si occupava di fare alcune cose, lavoriamo insieme. guardo sul balcone, guardo fuori, grigio, nebbia. Mi sembrava di essere comunque ai domiciliari, perché mi hanno liberato e il 24 di dove vado. Allora sono uscito di casa in preda al panico, perché Mirella poi si abituava velocemente, io invece ancora mi manca il giro del mondo, dico ma perché siamo tornati e via. Prendo la macchina e vado a fare un giro, mi hanno liberato. Insomma, mi trovo in giro a caso a Campione d'Italia. Fra l'altro ho detto, faccio una stories e racconto, c'era tutto grigio, che Campione d'Italia è un comune italiano territorialmente in Svizzera che è fallito, perché c'era il casino, quelle del casino hanno fatto un mangiamangia generale e è praticamente fallito il casino. Il comune viveva grazie al casino, è fallito anche il comune. Quindi hanno fatto un'operazione di ripristino, credo, per salvare tutto. Non penso che hanno emesso un token, una cripto, però hanno cercato di salvare tutto. Insomma, ho detto, non so cosa fare, faccio una stories dicendo che sono a Campione d'Italia. Insomma, che alla fine ho sbagliato una strada, era tutto a senso unico per tornare indietro. Ho detto, va bene, lascia stare la stories. Si è messo anche a piove, ho detto, vado a casa, per carità. Adesso oggi c'è il sole e insomma vi faccio vedere qui che c'è il sole e va bene così. Quindi da domani, esatto, siamo vicino a Lugano, eravamo in quarantena, esattamente. E quindi vogliamo sentire le tue news. Allora domani sicuramente vediamo cosa succede lì a Nisvaldo, parlano in tedesco, parlano in tedesco. Quindi io non ci capisco nulla di tedesco, quindi gli chiedo se sanno l'inglese. Lo sanno non meglio di me, quindi scivolo sul morbido, però c'è Mirella che sa il tedesco, quindi fantastico. E quindi andiamo a vedere sta casa e lì faremo qualche disavventura. Poi mi piacerebbe, se facciamo il trasloco e ci trasferiamo, farvi vedere un po' di come sarà mai questo Nisvaldo. Sono curioso di capire come sarà. Qui si circola senza mascherina per strada, per cui eventualmente potremo fare una live camminando per le strade di Nisvaldo. Sarò da solo, immagino, con due mucche che mangiano la volatilità. Vi ringrazio, grazie per essere stati con me anche quest'oggi. Vi lascio la diretta registrata così per la potete rivedere. Allora no, sul sito di opzioni non c'è nulla. Nel 2021 credo faremo delle cose. Non so se nel 2021, ma siccome non vogliamo fare una roba tanto per farla, stiamo preparando una bomba incredibile. E siccome è una bomba incredibile, ci vuole del tempo, ma quando uscirà sarà una roba da tormento. Grazie ragazzi per essere stati con me. Buona serata, buon tutto. Salutate bambini, compagni, moglie, a casa, fratelli, sorale. Dite che i saluta.